Ospite al città di Arezzo Daniele Bennati, Massimo che è il commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo, che ama il calcio, ama il ciclismo. So che ha parlato con Baldini, che partite ha visto? Beh, io non sono ovviamente molto esperto di calcio, anche se lo seguo, come sai, sono tifoso interista, vado spesso a San Siro e ovviamente qui ad Arezzo, anche ad Arezzo non vengo spesso, però quando c'è l'occasione, anche con il mio amico Mario Agnelli o con mio figlio, veniamo a vedere la partita dell'Arezzo e oggi particolarmente mi fa piacere perché ho avuto modo anche di conoscere il mister Baldini con il presidente Daniele, siamo in ottimi rapporti, ci conosciamo da tanti anni e mi ha fatto molto piacere venire qui a salutare un po' tutti. Anche perché Baldini ama il ciclismo. Sì, sì, diciamo che quando siamo andati al sotto abbiamo parlato quasi solo e esclusivamente di ciclismo, quindi mi ha fatto molto piacere e in passato abbiamo avuto amicizie in comune e parlare anche di determinate persone che oggi non ci sono più mi ha fatto particolarmente piacere. E allora chiudiamo così, Bennati, per usare un termine ciclistico, al photo finish avrebbe meritato di vincere l'Arezzo? Beh, credo che soprattutto nel finale abbia avuto almeno due occasioni per andare in vantaggio l'Arezzo rispetto al Pescara, però credo che comunque per l'Arezzo sia un risultato ottimo con la prima in classifica come il Pescara e credo che abbia fatto un'ottima partita. Ovviamente i tre punti non sono arrivati, però credo che possono essere abbastanza soddisfatti. Grazie.